Ciao, sono Matteo dello studio di consulenza immobiliare Arcobaleno. Sai cosa ti dico? Venderla proprio a casa da soli è fattibile, nessuna legge lo vieta. Venderla al meglio invece è un'altra cosa, una competenza che metto a disposizione di quei clienti che vogliono seguirmi per arrivare al successo dell'operazione, che spesso risulta complicata ed articolata. Se mi stai guardando vuol dire che fai un altro lavoro, giusto? Inizio col dire che per vendere la tua casa io metto il 100% della mia giornata lavorativa. Tu non puoi, fai altro, quindi preparati a rinunciare a tutto il tempo libero che hai e a dedicarlo a questo, comprese le domeniche. Probabilmente se io provassi a fare il tuo lavoro non sarai altrettanto esperto, sei d'accordo? Ma c'è diffusa la credenza che per vendere il bene più prezioso che possiedi basti poco. E hai ragione, basta abbassare il prezzo finché qualcuno non compra. Ti piace come opzione? Credo proprio di no. Allora ecco cosa posso fare per te. Prima ci facciamo una bella chiacchierata. Ci presentiamo e iniziamo a conoscerci. Tu con le tue esigenze di proprietario ed io con la mia modalità di lavoro di consulente immobiliare. In poche parole dobbiamo piacerci. Entrambi ti spiego come lavoro e ci dobbiamo iniziare a fidare l'uno dell'altro. Poi vengo a vedere il tuo immobile. Quindi procuro, verifico e studio i documenti necessari per la compravendita. Quindi faccio un'analisi di mercato molto precisa per dimostrarti quanto vale la tua casa oggi. Ora che abbiamo un prezzo reale, come fare per vendere meglio? Io ti andrò quindi a delineare la strategia di marketing personalizzata che userò, dando la giusta visibilità sui portali immobiliari, sul mio sito internet aziendale, con una scheda dedicata e sui social con campagne mirate. Poi foto professionali della tua signora tirata a festa e ascoltami bene. Un video professionale per la tua casa. Qualcosa che non ha mai visto prima e che emozionerà le persone che la vedranno passare. Così vorranno visitare la tua e non tutte le decine di case simili che sono proprio in vendita nella tua zona adesso. Non meno importante, identificherò e selezionerò le persone interessate alla tua casa per capire se hanno disponibilità per acquistarla, quindi se sono finanziabili o se hanno dei soldini pronti. Solo allora li accompagnerò a suonare il tuo campanello. Ti terrò informato passo passo di cosa succede. Così potrai vivere i progressi che porteranno alla vendita migliore di casa tua. Tutto questo mentre fai il tuo lavoro. Chiamami se vuoi un vero professionista al tuo fianco. Ciao! Ciao!